È ripartito in Piazza Zucchi il mercato settimanale Sapori e Saperi Aretini. Ogni martedì saranno una decina gli operatori che dalle 8 alle 13 metteranno in vendita i prodotti a chilometro zero comunque della provincia di Arezzo con una selezione ampia di formaggi, salumi, marmellate, mieli, legumi, tartufi, verdure e frutta di stagione. È tornato quindi dopo la pausa invernale il mercato dei Sapori e Saperi Aretini con il quale Confesercenti, CIA e Confagricoltura intendono anche riqualificare ed animare Piazza Zucchi in modo che diventi un punto di riferimento per l'intero quartiere. Un progetto avviato nell'aprile del 2018 e che riprende grazie alla professionalità e laboriosità degli operatori che settimanalmente animeranno il mercato. La finalità infatti ricordano Confesercenti, CIA e Confagricoltura oltre a quella di vendere i prodotti del territorio e anche quella di creare grazie alle bancarelle un luogo di aggregazione incontro tra le persone del quartiere. È stato un buon avvio dicono gli organizzatori. La clientela ha approfittato per fare acquisti di prodotti genuini e ha salutato con entusiasmo il ritorno degli operatori. Il prossimo appuntamento martedì 26 marzo è a seguire ogni settimana dalle 8 alle 13 sempre in Piazza Zucchi.